Ciao a tutti ragazzi oggi facciamo un unboxing di queste tre scatolette qui che abbiamo davanti di Porco Russo queste sono le figure che ho comprato qualche giorno fa e come promesso oggi facciamo l'unboxing allora cominciamo facciamo vedere un attimo come la scatoletta qui la confezione eccola qua Posgaipait yushirisdesne Porco Russo Kara e queste sono le eventuali figure che possono uscire dalla confezione. Qua è il prezzo. Qua abbiamo il secret. Il secreto è qui. Qui c'è. Questa è la mamma aiuto. Questa è anche divertente. Questa è la forma. Ma io voglio mettere un po' 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 un po'. Allora andiamo a vedere questo primo scatolino qui cosa contiene e abbiamo Porco Russo. Abbiamo Porco Russo con la basetta Carino e ben fatto. Molto ben fatto. Abbiamo anche le altre due scatoline e vediamo cosa ci esce. Se lo mettiamo un attimo qui. Andiamo ad aprire quest'altra. Allora vediamo un po'. Allora vediamo un po' cosa ci esce. ragazzi roba da non credere questo è il secret il secret secretto di cane questo qui è il secret poi in un altro video andremo a fare review di ogni figure singola e ve le farò ve le mostrerò in tutti i loro particolari abbiamo quest'altra vediamo cosa ci esce coremo pre saikono a code nanika deruka andiamo ad aprire ok vediamo un po cosa ci esce mamma aiuto abbiamo qui la figura di mamma aiuto eccolo qua direi molto molto sono fatti molto bene ragazzi queste figure bellissimo ok questo come promesso era un video unboxing poi faremo un altro video andrà a recensire appunto queste figure ve le farò ve le mostrerò meglio nei loro particolari fatte molto bene quindi abbiamo avuto mamma aiuto porco russo porco russo no secretto grazie per la visione ci vediamo al prossimo video ragazzi con recensirò queste figure fuori dal sacchettino qui e ve le andremo a mostrare meglio ciao a tutti grazie iscrivetevi numerosi al canale un saluto da mario zetto e da porco rosso mario zetto channel de sta sayonara